Musica Benvenuti alla rassegna stampa di oggi giovedì 29 dicembre 2016 siamo ormai agli sgoccioli di questo anno che se ne sta andando lentamente e lo faremo, staremo ancora insieme per qualche giorno con le nostre notizie, con le nostre finestre informative come quella del mattino delle 7.30 che vede appunto la lettura dei titoli, dei giornali il resto del carino e il Corriere Adriatico Prima però andiamo a leggere il calendario perché oggi è un santo che arriva dall'Inghilterra stiamo parlando di Santo Maso Beckett, vescovo e martire nato a Londra nel 1118 da un ricco mercante era stato consigliere del re d'Inghilterra Enrico II tanto è una storia che vede Enrico II nominarlo poi vescovo poi per varie vicissitudini diventa da amico nemico e pensate fu ucciso dalle sue guardie davanti all'altare il 29 di dicembre del 1170 e mentre moriva diceva accetto la morte in nome di Gesù e della Chiesa il sole è sorto alle 7.41 e tramonterà alle 16.39 minuti vediamo il bollettino meteo per la giornata di oggi oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso per nuvole basse in particolare nelle zone dell'entroterra le temperature sono in diminuzione in particolare nei valori massimi i venti nord orientali moderati nelle zone interne saranno venti tesi invece lungo la costa con rafiche fino a vento forte o addirittura burrasca quindi attenzione per la giornata di domani invece venerdì 30 di dicembre cielo sereno poco nuvoloso venti da nord inizialmente e ancora in graduale attenuazione nel corso della giornata invece nel corso del pomeriggio venti che andranno a diminuire poi sabato sabato è l'ultimo dell'anno il 31 di dicembre vedete cielo sereno poco nuvoloso temperature minime stazionarie massime lieve aumento il vento non c'è sarà soltanto di brezza brezza leggera o tesa da nord insomma quindi per l'ultimo dell'anno dovrebbe essere una giornata insomma se non fosse per le temperature ma quasi primaverili e avremo condizioni di tempo stabile fino a lunedì prossimo poi dopo potrebbe esserci un peggioramento allora cominciamo dal giornale dal Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro l'edizione di Pesaro apre con la situazione dei furti e un'intervista che il giornale ha realizzato con il questore di Pesaro e Urbino-Lauriola la percezione inquinata dei furti non c'è spazio per la criminalità sull'allarme sicurezza poi parla anche delle barriere antitir che verranno installate sia Urbino e Fano arriva l'inverno allerta vento e gelo Natale e Primaverile dunque addio ora una breve terregua poi le temperature andranno in picchiata il freddo fa impennare i malati di influenza le marche sono al top ma cominciamo entriamo nel giornale all'interno del giornale nelle pagine interne per leggere questa intervista al questore di Pesaro che dice facciamo gola alla criminalità ma resistiamo alle infiltrazioni il questore sull'allarme sicurezza dice certi reati influenzano pesantemente la percezione sulla paura attentati dopo Pesaro le barriere antitir arrivano anche nei centri storici di Fano e di Urbino la seconda pagina è sempre su questo argomento occhi vigili sulla città telecamera quota 72 il comune di Pesaro è pronto ad installarne di nuove soprattutto nei punti critici altri apparecchi saranno posizionati al campus e nei pressi di altre scuole sui furti in casa c'è anche il ritorno da segnalare dei ladri di polli ma in realtà questi sono sempre stati negli ultimi colpi pensate un bottino di conigli di lattine di olio e di scarpe poi con quello che costa l'olio oggi figuriamoci Aset Spa chiuso un anno epocale tariffe più basse gradimento alto siamo sulla pagina di Fano la presidente Capodagli replica all'ex sindaco Aguzzi solo amarezza per il rinvio dei premi di produzione ai dipendenti a gennaio tra l'altro partiranno ha annunciato la presidente anche i lavori per il prolungamento degli scolmatori di Sassonia un lavoro per 2 milioni di euro mentre sulla chiusura della discarica di Monte Schiantello la data è stata posticipata alla 2028 sull'interquartieri si cambia ci sono dei punti critici ci sono delle situazioni che vanno migliorate l'interquartieri dunque cambia ecco cosa sposteremo c'è un sopralluogo dell'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi insieme al sindaco dopo le critiche il Movimento 5 Stelle parla invece di percorso ad ostacoli tra le cose che verranno cambiate ci sono per esempio gli attraversamenti pedonali uno verrà spostato ha detto l'assessore l'attraversamento quello che si trova a ridosso dell'asilo il giardino dei colori disegnato dopo la curva dell'interquartieri a pochi metri dall'uscita in Viale Italia quello in realtà è sempre è apparso da subito fin da subito un po' troppo pericoloso si vede all'ultimo istante che c'è praticamente un attraversamento pedonale dopo la curva scogliere rinforzate invece dal Metauro alla pista dei Gocard la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per consolidare le barriere un investimento da 190 mila euro i lavori verranno eseguiti via mare con l'intervento di un motopuntone prima dell'inizio della prossima stagione estiva con la cabinovia il Monte Catria è un paradiso tutto l'anno presenze turistiche in ascesa per le festività in attesa di San Silvestro manca e sì purtroppo soltanto la neve e guardate intanto le cabinovie nuove queste qua vedete ma soprattutto guardate che spettacolo si presenta davanti agli occhi delle persone che salgono e scendono questa cabinovia uno spettacolo straordinario un colpo d'occhio che arriva fino al mare fino al mare Adriatico Bacchiocchi Bacchiocchi e siamo a Orciano il Stefano Bacchiocchi che qui vedete accanto a Simone al suo vice Simone Tanfani dicevo Bacchiocchi indica la via e lascia il suo paese perché comunque sapete tutti che tra qualche giorno Orciano così come gli altri comuni che si sono fusi che hanno detto sia la fusione diventerà un unico comune si chiamerà Terre Roveresche dunque tutti i quattro sindaci decadranno arriverà il commissario prefettizio allora voragine ecco le novità ultimo incontro del sindaco di Orciano prima della costituzione appunto di Terre Roveresche ci sono alcune opere alcune situazioni ancora in piedi come il bocciodromo come il cimitero il restauro della parte monumentale del cimitero con la sistemazione dei cornicioni e quant'altro e ha fatto un po' il punto della situazione mentre guardate la discarica improvvisata questo è uno scatto fotografico che arriva da strada comunale di mezzo siamo a Marotta uno spettacolo indecoroso dopo le festività nel quartiere che si trova vicino alla 14 materasse e gomme quell'area è una discarica da Senigallia l'ultimo saluto a Cristian il papà ho finito le lacrime dediche dolore e rabbia ai funerali del barman 41enne che si è tolto la vita nei giorni scorsi la disperazione del papà Gualtiero dice sono distrutto chiesa strapiena in tanti hanno seguito la cerimonia funebre dalla piazzale una cerimonia funebre invece ancora da fissare è quella di Luciano Messersì una grande passione per il calcio l'omaggio era da tutti soprannominato Bistecca e c'è un omaggio questa mattina sul giornale dell'ex assessore Ceresoni che dice di lui se è stato il simbolo di un associazionismo calcistico giovanile amatoriale degli anni 70 e 80 dove tanti ragazzi grazie a quelli come te hanno trovato un luogo di aggregazione e ripeto ancora è decenuto a 66 anni il giorno di Natale ma ancora non sono state fissate le lesequie una brutta storia invece una storia triste quella che arriva sempre da Senigallia riguarda questa ragazzina di 16 anni che dovrà restare in una comunità di accoglienza ed è stata allontanata da casa la settimana di Natale dopo essere fuggita dalla sua abitazione i genitori avevano riferito ai carabinieri e anche ai servizi sociali e al tribunale dei minori di avere il forte sospetto che la figlia plagiata dal fidanzato albanese si prostituisse e dunque il giudice nega la libertà alla sedicenne c'è un pericolo di fuga lei però ha chiamato i genitori rassicurandoli e dicendo guardate che vi state sbagliando non sono una ragazza che non sono una prostituta non faccio questo si è giustificata però contro ci sono alcuni scatti fotografici insomma c'è tutta una storia purtroppo non bella che sta mettendo sta gettando e ha gettato nella disperazione certamente i genitori a Fossombrone invece ospedale penalizzato Bonci che è il sindaco di Fossombrone finisce dunque nel mirino lungodegenze azzerate cure intermedie del primo gennaio l'unione attacca il sindaco sapeva che i 20 posti sarebbero andati persi Bartolini tutte le forze politiche dice devono porre rimedio e ottemperare agli impegni presi ancora dal Corriere Adriatico da Pesaro Villa Fastigi è il carcere sovraffollato serve anche manutenzione il garante nobili dice necessari interventi nelle aree comuni e nei servizi igienici ma la direzione del carcere nega l'eccesso di detenuti le celle sono grandi possono starci in due e poi l'ultima pagina dal Corriere Adriatico il titolo sembra il titolo non di un articolo ma di un libro di una fiaba di una favola la Capotreno e la Bambina alla piccola hanno rubato parliamo di una cosa che è avvenuta di un fatto che è avvenuto il 27 agosto scorso alla piccola dicevo hanno rubato lo zaino che dentro conteneva dei farmaci salvavita molto importanti la funzionaria delle ferrovie lo ritrova tutto questo è successo in treno la famiglia adesso ha affidato un ringraziamento ad una lettera nella quale in fondo si dice se mi leggerai tu saprai di essere quella persona un esempio di integrità cortesia e cuore e tutto questo è accaduto poi sì sul treno ma poi questo zaino è stato restituito alla stazione di Pesaro adesso apriamo invece il corriere scusate il resto del Carlino la prima pagina della fotonotizia è per non c'è bisogno di dirlo guardate qua la mascherina ci arriveremo prima o poi polveri arriva la stretta tra l'altro non piove è tutto fermo e quindi l'inquinamento aumenta e aumenta moltissimo nell'aria solo a dicembre 16 sforamenti l'assessore estende il divieto di circolazione alle 24 ore nell'area limitata per i mezzi più vecchi questa è la foto copertina la fotonotizia a centro pagina poi dentro la politica Marchetti è l'ultimo della classe in tre anni nemmeno una proposta di legge è una classifica che è stata stilata da Open Police che ha prodotto uno studio sui deputati e sui senatori più incisivi quindi c'è questa classifica sulla produttività parlamentare la Rericciatti la fanese di SEL è la migliore è quella che ha probabilmente lavorato di più ma adesso insomma dire lavorare insomma è difficile la Rericciatti Andrea Cecconi Marco Marchetti Alessia Morani Camilla Fabri sono i nostri deputati Cecconi invece Andrea Cecconi del Movimento 5 Stelle il secondo deputato pesarese più produttivo Fabri Selacava invece in Senato lo spot c'è uno spot che andrà in televisione contro la psicosi del terremoto le marche sono di nuovo sul piccolo schermo per promuovere le sue bellezze la sua arte la sua storia dal 25 dicembre quindi fino al 21 di gennaio è ripartita questa campagna pubblicitaria della regione sulla RAE però Pesaro si lamentano i pesaresi che Pesaro non c'è c'è l'attore marchigiano Neri Marco Re come testimonia lo è già stato in altre occasioni però non c'è la città di Rossini e quindi c'è qualcuno che adesso insomma ha storto un po' il naso e sta chiedendo spiegazioni su questa cosa rifiuti affano si paga meno battuta dal resto per la differenziata Aset Spa traccia un bilancio utile lordo di 3,4 milioni di euro consumi diminuiti grazie all'efficienza delle reti e all'attenzione dei cittadini la ciclabile dell'inte quartieri invece è un percorso ad ostacoli Fano 5 Stelle chiede di togliere i pannelli anti rumore scempio epocale dicono loro gli esattori invece siamo sulla pagina di Fano restano gli esattori restano senza stipendio i dipendenti della Duomo GPA a secco ma ci mandano a riscuotere con gli interessi ultima mensilità a settembre mancano anche la tredicesima e la quattordicesima di giugno poi il racconto di una persona che si è accasciata al mercato slalom dei soccorsi ambulanza intrappolata tra le bancarelle del mercato a Fano assurdo gettare invece siamo a Mondolfo 25 mila euro per un ricorso parliamo dell'unificazione di Marotta il comitato cittadino contesta la battaglia legale del comune il sindaco Barbieri replica la cosa davvero inconcepibile sarebbe non difendere il territorio e questa è la pagina della Fano e Valle del Cesano l'ultima è quella di Pesaro eccola qua un camionista fa la cresta con il pieno di carburante il trucco però è stato scoperto dai carabinieri pagava rifornimento ad amici con la carta aziendale si faceva rimborsare a prezzi più bassi di quelli del distributore ed è tutto per la rassegna stampa di oggi come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia e se avete delle segnalazioni da farci ricordatevi che attraverso Whatsapp potete inviarci al 338 4968 250 tutte le vostre segnalazioni tutto quello che volete sia foto video che semplicemente un testo poi noi faremo le nostre verifiche e se la notizia merita sarà nel nostro telegiornale grazie e buona giornata a tutti